Il campionato di eccellenza in esclusiva su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Tutte le domeniche doppio appuntamento alle 18 e alle 19.50 con il campionato d'eccellenza in esclusiva solo su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Con Paolo Durante e la partecipazione di Lorenzo Valeriani sotto porta d'eccellenza tutte le domeniche su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre, alle 18 e alle 19.50. Grazie per la visione!